ma dissi o veggio qui colui che fore trasse le nove rime incominciando donne che avete intelletto d'amore e io a lui io mi son un che quando amor mi spira a noto e a quel modo che è ditta dentro vo significando o frate issa veggio dissegli il nodo che il notaro e guidone e me ritenne di qua dal dolce stil e il novo che io odo io veggio ben come le vostre penne di rietro al dittator sem vanno strette che delle nostre certo non avenne e qual più a guardar oltre si mette non vede più dall'uno all'altro stilo e quasi contentato si tacette o anime sicure da ver quando che sia di pace è stato non son rimase acerbe né mature le membra mie di là ma son qui meco col sangue loro e con le sue giunture quinci su vo per non esser più cieco donna di sopra che ne acquista grazia perché il mortal per vostro mondo reco ma se la vostra maggior voglia sazia tosto di vegna sì che il cielo valberghi che è pien d'amore e più ampio si spazia ditemi a ciò che ancora carte ne verghi chi siete voi e chi è quella turba che se ne va di rietro ai vostri terghi nostro peccato fue ermafrodito ma perché non servammo umana legge seguendo come bestie l'appetito in obrobrio di noi per noi si legge quando partinci il nome di colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge or sai i nostri atti e di che fummo rei se forse a nome vuoi sapere chi semo tempo non è di dire e non saprei farotti ben di me volere scemo e qui salto la lunga lunga similitudine in cui parla di queste fiamme di purganti che vanno come uccelli di riviera sono come uccelli e li guarda dante loro sono fiamme sono posti sia a bertram lo vediamo dopo questo sia alla fiamma in cui bruciano i biforcuti traditori ulisse e di omede che parlano da dentro una fiamma anche loro parlano da dentro una fiamma e è per quello che facevo tutte queste cose no che dici ma quella è fabbrica in effetti non è un granché come cioè è un po' un espediente ma poi diventa bellino alla fine poi che de riguardar pasciuto fui tutto moffersi pronto al suo servigio con la fermar che fa credere altrui ed egli a me tu lasci tal vestigio per quel chiodo in me è tanto chiaro che le tè non potorre né far bigio ma se le tue parole orver giuraro dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro e io a lui li dolci detti i vostri che quanto durerà l'uso moderno faranno cari ancora i loro inchiostri o frate disse questi che io ti cerno col dito e aditò un spirito inanzi fu miglior fabbro del parlar materno versi d'amore e prose di romanzi soverchiò tutti e lascia dirli stolti che quel dilemosì credon cavanzi a voce più calver drizzan li volti e così ferman sua opinione prima carte ho ragion per l'or s'ascolti così fermolti antichi di guidone di grido in grido pur lui dando pregio finché l'ha vinto il ver con più persone or se tu hai si ampio privilegio che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale Cristo abate del collegio falli per me un dir d'un pater nostro quanto bisogna a noi di questo mondo dove poter peccare non è più nostro poi forse per dar loco altrui secondo che presso a via disparve per lo fuoco come per l'acqua il pesce andando al fondo io mi fei al mostrato inanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco ei cominciò liberamente a dire come per l'acqua il pesce andando al fondo come per l'acqua il pesce andando al fondo e vei già usendo gioi che sperdenà ara vos prego per aquel valore che vos guida al son dell'escalina sovegna vos a temps de ma dolor poi s'ascose nel fuoco che li affina grazie 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 grazie